Carrozzeria che offre la più completa gamma di servizi per la tua auto. Officina all'avanguardia, carrozzeria convenzionata con le assicurazioni per un'assistenza a 360 gradi senza spese aggiuntive. Vetture di cortesia, soccorso stradale e assistenza 24 ore su 24. Melizza, da oltre 40 anni al servizio degli automobilisti. Via Vallone Petrara numero 20, Reggio Calabria.